Ciao ragazzi, come state? Lo so, un periodo un po' strano, vero? Ordinate la roba e non arriva, liste d'attesa infinite, dovete prenotare ma non sapete quando vi arriva, insomma un periodo un po' particolare, ma a volte aspettare rende, diciamo così. Da oggi nasce infatti pre-order, quando vedete questo logo che vedete alle mie spalle vuol dire che questi prodotti hanno magari una lista d'attesa un po' più lunga ma aspettare paga, per cui troverete un'offerta speciale riservata agli utenti gold, quindi iscrivetevi subito se non lo siete ancora, è gratuito, non vi preoccupate e niente, trovate diciamo dei prodotti particolari che sappiamo già avere magari qualche difficoltà visto le norme richiesta, di solito sono prodotti molto molto interessanti per quello ci mettono un po' di più e li troverete insomma con un'offerta particolare, per cui andate a scurioseare nelle occasioni, trovate pre-order e niente, vediamo se c'è il prodotto che stavate cercando, potrebbe essere proprio lì, per cui vi aspetto, ciao ragazzi per adesso è tutto, alla prossima!